Ciao a tutti! Oggi c'è una sorpresa speciale! E intanto vi presentiamo le nostre due amiche Barbara e Priscilla Che ci fanno qui? Oggi ci aiuteranno per la nostra challenge Perché oggi io e te ci sfideremo in una gara di... Di... Trucchi! Sì sì! Eccoli qua! Direttamente dalla Sbabam I trucchi di Miss Cookie Vuoi vedervi? Vi ricordiamo come sempre di iscrivervi al canale E di lasciare tanti like Allora, i trucchi di Miss Cookie Li trovate in edicola Ricordatevi sempre di chiedere in magazine Sì, che come sempre è pieno di storie, curiosità e tantissimi giochi divertenti Ma adesso vogliamo vedere questi trucchi Ah, sono i trucchi di Miss Cookie Miss Cookie, sì Li trovate in queste bellissime blind bags E potete trovare tanti trucchi diversi Ombretto Ombretto, fard, lucida labbra E anche delle simpatissime pochette Li apriamo? Sì! Siamo pronti, Alice? Sì, siamo pronti! Apriamo tutte queste bellissime buste Vediamo cosa troviamo dentro Sì, sì Sì, sì Partiamo con la prima Guardate un po', che carina E questo è il fard Con il suo bellissimo pennello E il fard dove si mette, Alice? Dove si mette? Sulle? Sulle guance Sulle guance Sulle guance Eccolo qui Vediamo subito un'altra Guarda! Questo è il lucida labbra Guardiamo un po' Mamma 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 Wow Eh, questi trucchi Sono testati e sicuri Sui bimbi Per i bimbi Sono questi Andiamo, Antti E questo cos'è? È un altro lucida labbra Vediamo un po' Guarda, Alice Wow Allora, facciamo un lucida labbra per me O un lucida labbra per te Abbiamo un altro Sì Guarda, dice Abbiamo trovato la pochette Ma guardate un po' che carina Per mettere tutti i vostri trucchi E portarli sempre con voi Hai visto? Prova a metterci Prova a mettere quello 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 che vuoi puoi mettere E poi Vediamo un po' Guarda Lo smalto Sì Posso metterlo? Di un bellissimo colore rosa Adesso proviamo subito a metterlo E poi Eccolo, visto? Un altro smalto Questo di un altro colore Più scuro Lilla Bellissimo Anche questo Hai visto? Ok E poi Un altro lucida labbra Vediamo questo Di che colore sarà Giallo? Giallo Giallissimo Questa Questa è un'altra pochette Questa con un disegno diverso La prendo io Un'altra pochette Con un altro disegno ancora Un'altra fantasia Molto carina anche questa Vedi? Di qua c'è un colore Di qua un altro Ecco qui Un'altra bellina Anche questa Ma trovo gli ombretti Vediamo se troviamo gli ombretti Vediamo un po' Eccoli qua Wow Tutti pieni di brillantini Guarda un po' Tutti pieni di brillantini Vediamo C'è anche il suo pennellino Ecco qui Il suo pennellino Posso vederlo? Sì Grazie Ecco Così li prendo io Quelli brillantini O li vuoi tu? Li voglio Tavino Non voglio I cazzini Aspetta A livellarli tutti Perché qui C'è uno ancora Più grande Guarda Posso vederlo? Aspetta Vediamo un po' Vediamo un po' Cosa sarà Gli ombretti Di tutti i colori Guarda Posso immaginle? Sì Vai Prova Prova un po' Sulla mano Hai visto? Questi li vuoi tu? Sì Mamma Ok E poi abbiamo Un altro lucida labbra Questo è Di quest'altro colore Bellissimo E poi E questo cos'è? Cos'è? Il rossetto Guarda un po' Vediamo Posso vedere Mamma Posso vedere Guarda Bellissimo anche questo E poi Oh Un altro bellissimo Fard E poi L'ultimo Un altro Lucida labbra Wow Tutto pieno di glitter Anche questo Allora Siamo pronti? Sì Con Tutti i nostri Bellissimi trucchi Di Miss Cookie Siamo pronti Per Iniziare La nostra Bellissima challenge Sei pronta? Dice Allora Io scelgo Tu vuoi Barbara O Priscilla 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 Per te Gli ombretti per te Grazie Io prendo Barbara Possiamo iniziare Ok? Sì Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti. 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 E questo è il risultato. Questa è quella che ha fatto Alice e questa è quella che ho fatto io. Ma ecco qua. Chi ha vinto? Io. Hai vinto tu? Sì, sei stata brevissima. La sfida è finita. Mi sa che ha proprio vinto Alice che è stata brevissima. Ecco le nostre due amiche, Barbara e Priscilla e i trucchi di Miss Cookie. Vi salutiamo. Ciao a tutti. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.